Musica Padula, l'amministrazione comunale aderisce alla proposta del Consorzio di Bonifica per la messa in sicurezza del fiume Tanagro. Polla, questa mattina l'incontro sulle eccellenze delle imprese, storie e prospettive di sviluppo, promosso da Lions Club De Giano Polla. Montesano sulla Marcellana, partiti lavori di rifacimento della rete di pubblica illuminazione. Il comune è primo in Italia con illuminazione tunable white. Padula, giornata in ricordo di Gio Petrosino a 110 anni dall'omicidio, intitolazione del comando della Polizia Municipale all'eroe padulese. Polla, stamattina mamma mia al Teatro Don Bosco, spettatori e gli studenti. Buongiorno e bentrovati al nostro telegiornale. Iniziano ad arrivare le prime adesioni alla proposta fatta dal Consorzio di Bonifica a Vallo di Diano Tanagro per rafforzare la richiesta presentata alla Regione per l'istituzione di un tavolo tecnico per la messa in sicurezza del fiume Tanagro. Dal comune di Padula la delibera a sostegno dell'ente consortile. Il comune di Padula accoglie la richiesta del Consorzio di Bonifica a Vallo di Diano Tanagro e con delibera di giunta sostiene l'iniziativa dell'ente presieduto da Beniamino Curcio per l'istituzione di un tavolo tecnico per la messa in sicurezza del corso d'acqua a rischio sondazione. Nella delibera datata 6 marzo, la giunta del comune di Padula, guidata dal sindaco Paolo Imparato, riprende le preoccupazioni dell'ente consortile ricordando anche come il Vallo di Diano, formatosi dal prosciugamento dell'antico lago preistocenico, è stato soggetto ad una lunghissima attività di bonifica culminata nel periodo borbonico. Partendo dalla storia quindi viene anche ricordata l'importanza che il fiume Tanagro riveste per il territorio essendo il principale collettore scolante per l'area, fermo restando e riconoscendone comunque le criticità che sono state anche evidenziate dal consorzio e che mettono a rischio l'incolumità dei cittadini a causa dei diffusi e imponenti allagamenti dovuti all'esondazione del fiume. Una problematica che, come spiegato dal comune di Padula, impone ai soggetti istituzionali presenti sul territorio e che detengono anche la responsabilità di tutelare la pubblica sicurezza di intervenire per risolvere le situazioni di emergenza che annualmente si ripetono ormai in maniera frequente nelle stagioni delle piogge con misure a carattere straordinario ma mai definitive non avendone la competenza. Nella delibera si fa riferimento ad una cronica assenza di manutenzione e abbandono a se stesso del fiume Tanagro ormai da diversi anni condividendo con il consorzio di bonifica la certezza che oggi più che mai sia necessario intervenire per liberare l'alveo dalla presenza di tronchi, alberi sradicati, ceppai e materiale detritico a cui si aggiunge la folta vegetazione che ostruisce il naturale scorrere delle acque, ritenendo anche che, a prescindere dalla titolarità delle competenze, bisogna farsi carico del problema. Elogiando quindi l'iniziativa del consorzio di bonifiche ricordando come la collaborazione tra gli enti sia sempre da ospicare soprattutto quando si tratta di garantire la fruibilità del territorio e la sicurezza dei cittadini, il comune di Padula ha accolto l'invito lanciato alcuni giorni fa dal presidente del consorzio Beniamino Curcio sostenendo l'iniziativa per la costituzione di un tavolo tecnico dedicato. Andiamo avanti, si è tenuto questa mattina a Polla presso la sala conferenze del Family Center il convegno dal titolo Eccellenze nelle imprese, storia e prospettiva di sviluppo. Presenti le istituzioni del territorio ed il presidente nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia. Ai nostri microfoni abbiamo raccolto le parole del presidente Boccia e del presidente del Lions Club Teggiano Pollatanagro, Giuseppe Pinto. Ascoltiamoli. Il futuro delle imprese come tema dell'incontro promosso da Lions Club Teggiano Polla in collaborazione con i Lions Club di Sala Consilina Vallo di Diano e Padula Certosa di San Lorenzo. Questa mattina la sala conferenze del Family Center di Polla ha ospitato Vincenzo Boccia, presidente nazionale di Confindustria per approfondire il tema legato proprio allo sviluppo delle imprese con particolare riferimento a quelle del mezzogiorno che maggiormente soffrono la crisi. All'incontro hanno preso parte anche esponenti politici e referenti nazionali dei Lions Club, un evento importante che ha permesso di far conoscere la realtà imprenditoriale del Vallo di Diano, con imprese che, pur nelle difficoltà, sono riuscite e riescono tuttora a creare economia e lavoro. È necessario tuttavia un maggiore supporto e una maggiore attenzione delle istituzioni sul tema, che troppo spesso risultano lontane dalle esigenze delle aree interne e periferiche, spunti di riflessione toccati a più riprese dai protagonisti dell'incontro. In Italia è complesso fare impresa, ma nonostante tutto siamo la seconda manifattura d'Europa. Il Vallo di Diano è specchio del paese, con imprenditori legati alle famiglie, alla comunità, al territorio. Oggi è molto bella, è una giornata di grande emozione che lega imprese, famiglie, territorio, comunità. È il futuro dell'Italia, è un'Italia che deve guardare al mondo. Il mondo guarda all'Italia perché quando entra in gioco armonia, equilibrio e tecnologia, entra in gioco l'industria italiana, grandi sfide da cogliere come paese, dall'interno delle nostre fabbriche e imprese e dall'esterno con una politica economica che ci auguriamo quanto prima metta al centro della sua attenzione lavoro, occupazione e questione industriali. È stata un'idea di quello che il Lions Club distretto 108 UPS Long ha, quindi proprio per far sì che si possa far tenere conto, con questo incontro, per la prima volta nell'ambito della storia del Vallo di Diano, la presenza di un presidente di Compindustria Italia. Questo è quando io oggi mi sento dire, sono soddisfatto di esserci riuscito, assieme agli altri stessi colleghi e tutte le altre collaborazioni dei Lions, compreso quello che riguarda la circoscrizione e il distretto 108 UPS Long ha. Ed ora andiamo a Montesano sulla Marcellana, dove sono iniziati i lavori di rifagimento della pubblica illuminazione. Lavori che faranno del comune guidato dal primo cittadino Giuseppe Rinaldi, il primo in Italia ad aver adottato una modernissima tecnologia che consente il cambiamento della luce durante la giornata. Vediamo il servizio. Montesano Smart City, sono partiti i lavori per la realizzazione di una nuova e moderna rete di illuminazione pubblica nella città dell'acqua con le novità che sono state presentate attraverso un video dal sindaco di Montesano Giuseppe Rinaldi che spiega anche in cosa consistono i lavori ufficialmente iniziati di efficientamento energetico per adeguare il territorio comunale alle nuove normative che puntano proprio a migliorare il servizio di illuminazione pubblica avvalendosi di nuove forme energetiche più economiche e allo stesso tempo anche più sicure e attente all'ambiente. La nuova rete di illuminazione pubblica che si sta installando nel comune di Montesano infatti sarà anche all'avanguardia con il comune guidato da Rinaldi che sarà il primo in Italia ad utilizzare la tecnologia Toneable White che consente la regolazione variabile della temperatura cioè consente il cambiamento di luce nel corso del giorno. L'intervento previsto, spiega il sindaco Giuseppe Rinaldi consentirà la sostituzione di tutti gli attuali punti luce con corpi illuminati a LED in tutte le frazioni di Montesano l'adeguamento normativo di tutta la linea nuovi punti luce, telecamere per videosorveglianza illuminazione specifica per beni culturali, impianti sportivi e un sistema integrato di rete. A ciò si aggiunge che siamo il primo comune italiano dopo una cittadina americana del Minnesota a sperimentare sulla pubblica illuminazione l'innovativo sistema White Dim ossia una luce bianca a LED sui corsi del paese che consentirà una resa cromatica unica una riduzione energetica a favore dell'ambiente e del benessere umano. Montesano e di conseguenza anche il Vallo di Diano sottolinea Rinaldi con questo lavoro diventano laboratorio nazionale per l'innovazione tecnologica legata alla sostenibilità ambientale. Per una volta siamo molto più avanti moderni ed innovativi rispetto al resto d'Italia. Se lavoriamo bene, conclude Rinaldi, ascoltiamo tutti e collaboriamo valorizziamo le nostre aziende diventiamo centro di riferimento in particolar modo in materia di sostenibilità ambientale. Ed ora Padula, questa mattina cerimonia di commemorazione di Gio Petrosino a 110 anni dal suo omicidio avvenuto per mano della mafia il 12 marzo del 1909. Il comune di Padula per l'occasione ha quindi accolto la proposta dell'Associazione Internazionale Gio Petrosino che è seduta da Vincenzo Lamanna ed ha intitolato il nuovo comando di polizia municipale al poliziotto italo-americano nativo padulese che per primo ha sacrificato la sua vita per la legalità e per combattere la mafia. La giornata dedicata alla legalità si è quindi aperta con gli uni nazionali americano e italiano. A seguire è stata scoperta la targa di intitolazione del comando dei vigili urbani. A seguire è il momento di festa e commemorazione che è proseguito presso la Casa Museo di Gio Petrosino. Tantissime le personalità presenti all'incontro di questa mattina. Accanto all'Associazione Internazionale Gio Petrosino di Padula e l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Imparato erano presenti anche una forte delegazione dell'Associazione Gio Petrosino degli Stati Uniti, il comandante della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, il capitano Davide Acquaviva, il comandante della tenenza della Guardia di Finanza di Sala Consilina, Giuseppe Giannarelli, il responsabile del distaccamento dei vigili del fuoco di Sala Consilina, capo squadra esperto Luigi Morello. A partecipare alla cerimonia anche il senatore Francesco Castillo, il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Cosimo Sibili. Ascoltiamo le interviste realizzate. E' una tappa storica oggi per Padula perché a 110 anni dalla morte di Petrosino, il comune di Padula, su proposta dell'Associazione Internazionale Gio Petrosino, ha voluto intitolare il comando di polizia locale al figlio più illustre di Padula e al simbolo internazionale della lotta alla mafia. E' una tappa storica che condividiamo con tanti amici, che condividiamo con la delegazione americana dell'Associazione che opera negli Stati Uniti, con l'Istituto Omnicomprensivo, con i docenti, con gli studenti e con tutti coloro i quali stanno portando avanti in sinergia un cammino di sensibilizzazione ai valori della legalità. Io sono emozionatissima, è un giorno storico e speriamo che questo cammino porti sempre più frutti e rende i legami qui a Padula sempre più solidi. Come associazione, io come Presidente, sono molto soddisfatto di questi grandi passi che stiamo facendo avanti. In concomitanza quest'anno con i 110 anni dalla morte fa 20 anni l'Associazione che è stata costituita. Noi siamo contenti di arrivare a questo punto perché l'Associazione sta lavorando molto in questo insieme all'Associazione americana e quella di Palermo che c'è un'altra associazione che è stata costituita tre anni fa. Lavoriamo insieme per portare sempre avanti il nome di Petrosino e la legalità. Dobbiamo onorare questa figura che è nata proprio qui a Padula quindi è un simbolo del sud della legalità che porta la legalità nel mondo e la ricerca di questa legalità. Oggi a distanza di sette mesi, otto mesi dalla promessa che fece a settembre per ritornare per intitolare il comando della Polizia Municipale a Gio Petrosino. Siamo qui e oggi lo facciamo anche con una legge approvata che aumenta le penne a tutti i politici che fanno affari elettorali con la mafia. Quindi oggi è una doppia celebrazione. Siamo molto contenti di essere qua a partecipare a questo evento con il nostro socio Petrosino di Padula. È un grande onore per noi perché se non c'era Gio Petrosino di Padula l'associazione di Gio Petrosino in Stati Uniti e in Italia non c'era. Gio Petrosino per noi rappresenta tutte le cose bene le leggi e le cose. È un grande onore per noi americani di tenere uno eroiche persone come Gio Petrosino. Cambiamo argomento. Il progetto di Ano amplia le sue attività. A partire da ieri 8 marzo e fino al 31 dicembre presso il comune di Teggiano è stato attivato infatti un nuovo servizio con sportelli dedicati a 4 specifici interventi a favore delle donne. Interventi che vanno dalla prevenzione alle molestie all'aiuto per l'apertura di nuove attività imprenditoriali tutte al femminile. 4 aree di intervento tutte rivolte alle donne e alle loro necessità. Da ieri, giorno della festa delle donne fino al 31 dicembre 2019 presso il comune di Teggiano è attivo uno sportello che si pone come finalità a quello di offrire alle donne un aiuto nelle specifiche necessità di mamme imprenditrici ma anche contro la violenza. L'iniziativa vede insieme il comune di Teggiano e la cooperativa Iris ed è realizzata nell'ambito del progetto di Ana puntando anche a favorire l'occupabilità delle donne. Grazie ai finanziamenti della regione Campania nell'ambito della progettazione Port Campania FSE 2014-2020 fino al 31 dicembre presso il comune di Teggiano nei giorni di martedì e giovedì dalle 14 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 12 saranno attivi gli sportelli dedicati alle quattro tipologie di intervento contro le discriminazioni molestie e molestie sessuali per le misure di sostegno come bonus asilo nido bonus bebè opzione donna 2019 bonus assunzioni donne smart working congedo parentale per informazioni sulle misure di supporto all'imprenditoria femminile e uno sportello dedicato ai programmi di Invitalia come Smart & Start Resto al Sud Self Employment nuove imprese a tasso zero attraverso l'attivazione degli sportelli fanno sapere i referenti si punta a coniugare le politiche sociali a quelle occupazionali promuovendo le pari opportunità tra uomini e donne e sostenendo azioni mirate nell'ambito di tutte le priorità di investimento al fine di implementare l'occupazione femminile nel Vallo di Diano gli sportelli spiegano aiuteranno donne e giovani mamme in cerca di occupazione opportunità formative ad accedere ai numerosi servizi gratuiti offerti dal progetto Diana e ad aiutare le donne interessate ad avviare attività imprenditoriali sul territorio fornendo loro informazione e assistenza sulle opportunità e gli strumenti a disposizione per l'autoimprenditorialità femminile un sostegno in più quindi per tutte le donne che risiedono nei comuni dell'ambito territoriale S10 Vallo di Diano sportelli che potranno essere utili e funzionali nell'aiutare le donne nei loro impegni lavorativi e familiari ma anche strumento di sensibilizzazione sui temi delle pari opportunità attraverso una cultura di genere e di impresa E si è tenuta a Sant'Arsiano ieri pomeriggio un incontro per celebrare la festa della donna e puntare i fatti i fari dritti sulle pari opportunità e sui diritti L'evento è stato organizzato su iniziativa della locale amministrazione comunale guidata dal sindaco Donato Pica sul tema Il diritto di contare Presso il teatro comunale Giuseppe Amabile è stato proiettato il film che ha dato nome all'evento Poi dopo i saluti del primo cittadino Donato Pica della consigliera con delega ai servizi sociali Rosanna Pistone vi è stata una relazione di Elisabetta Giordano del centro antiviolenza retusa vediamo è una data che noi come amministrazione comunale di Sant'Arsenio abbiamo sempre inserito in eventi e manifestazioni di carattere essenzialmente sociale ma anche conoscitivo e divulgativo infatti quest'anno unitamente all'associazione Aretusa che opera da alcuni anni in maniera egregia sul nostro territorio si è pensato di proiettare un filmato che richiamasse appunto l'attenzione e la riflessione dei cittadini e delle donne su temi che purtroppo nonostante il moltiplicarsi appunto degli eventi ma non solo anche con la creazione diciamo di strutture di organizzazione eccetera purtroppo devo dire il tema soprattutto della violenza contro le donne rimane drammaticamente attuale per cui il cammino da percorrere nel segno della sensibilizzazione dell'educazione è ancora estremamente lungo e io credo che una maggiore sinergia a livello istituzionale sia sicuramente più utile rispetto alla frammentarietà attuale dei progetti e degli iniziativi siamo onorati di partecipare anche quest'anno per parlare di nuovo di questo tema della violenza e del centro antiviolenza retusa è presente quindi anche con i saluti della responsabile dottoressa Katia Pafundi e quest'anno abbiamo deciso invece di fare il solito convegno le solite chiacce insomma di guardare un film un film importante che a me piace molto il diritto di contare tre donne che comunque sono arrivate alla NASA per far arrivare il satellite sulla Luna e hanno la missione Apollo 11 e quindi loro sono riuscite a fare quello che gli uomini non sono riusciti hanno avuto bisogno dell'aiuto delle donne e quindi questa è la soddisfazione più grande la leva della parità è la soluzione a tanti problemi della società le donne contano sono importanti e bisogna trattarle bene c'è tanta strada da fare perché in realtà la parità non c'è si fa fatica a riconoscerla parliamoci insomma è evidente che anche noi nel nostro lavoro che facciamo tutti i giorni quotidianamente comunque le difficoltà le incontriamo qualcuno che cerca di frenarci c'è qualcuno che cerca a diminuire il nostro valore il nostro titolo c'è sempre e quindi è sempre una fatica però si può fare si può arrivare sulla luna e quindi ci sono arrivate con l'aiuto di una donna e ci riusciremo anche noi l'importante è non perdere la nostra autostima e il nostro coraggio e non non sottovalzare nessuna situazione ed ora qualche minuto di pubblicità torniamo tra pochissimo con tutte le nostre notizie restate con noi ben trovati alla seconda parte del nostro telegiornale la regione Campania punta a investire nel settore dell'impresa agricola grazie ai fondi del PSR sono infatti stati stanziati 55 milioni da destinare alla misura 641 per la creazione e lo sviluppo delle imprese agricole con particolare riferimento agli agriturismi vediamo i dettagli 321 imprese agricole della Campania che hanno investito in attività di agriturismo fattorie didattiche e agricoltura sociale avranno finanziamenti per un totale di 55 milioni di euro nell'ambito della tipologia di intervento 641 del PSR la regione Campania ha infatti approvato la graduatoria unica regionale relativa alla misura creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole del piano di sviluppo rurale queste ingenti risorse ha dichiarato Franco Alfieri capo della segreteria del presidente De Luca vanno a finanziare le attività extraagricole realizzate dalle imprese del comparto primario per migliorare la propria redditività di recente ha spiegato ancora Alfieri abbiamo pubblicato le graduatorie con cui destiniamo 38 milioni a 109 comuni delle province di Avellino Caserta Napoli e Salerno per l'introduzione e il miglioramento dei servizi di base per i propri cittadini a breve sarà approvata anche la graduatoria per la provincia di Benevento sulle 109 domande ammissibili 44 sono immediatamente finanziabili per un importo di 15 milioni e mezzo di euro inoltre sempre per le aree rurali è stata approvata anche la graduatoria relativa al progetto collettivo che ha reso possibile creare partenariati tra enti locali e operatori economici del territorio per riqualificare il patrimonio architettonico dei borghi rurali e per lo sviluppo di attività extraagricole abbiamo finanziato 153 beneficiari per 45 milioni di euro così ha concluso Alfieri si tratta di risorse fondamentali per la valorizzazione delle aree interne a rischio di spopolamento perché riservati agli investimenti sostenuti per nuovi poli di attrazione turistica e nuove attività non agricole in grado di generare sviluppo e occupazione il comune di Sala Consilina dal prossimo autunno avrà un nuovo impianto sportivo in località Cappuccini sono già iniziati i lavori a partire dal prossimo autunno sarà possibile praticare sport al coperto anche a Sala Consilina questo perché sono iniziati i lavori in località Cappuccini voltala adeguamente alla copertura del locale impianto sportivo polivalente realizzati grazie a un finanziamento di 370.000 euro ottenuto dall'amministrazione salese guidata dal sindaco Francesco Cavallone con un mutuo agevolato il comune infatti partecipato con successo all'iniziativa 500 impianti sportivi di base nata dalla collaborazione tra la presidenza del consiglio dei ministri e l'istituto per il credito sportivo ed inserita nell'ambito del progetto mille cantieri per lo sport ad aggiudicarsi l'appalto è stata la di costruzione negro srl che completerà l'opera in 7 mesi la consegna è prevista per fine settembre i lavori prevedono la copertura dell'impianto polisportivo la ripavimentazione il rifacimento dell'impianto elettrico e la predisposizione per l'impianto di riscaldamento inoltre è prevista la messa a norma degli spogliatoi con particolare attenzione a garantirne un comodo utilizzo anche da parte dei disabili interventi che permetteranno la crescita dello sport non solo a livello locale ma anche comprensoriale una grande soddisfazione per la consigliera delegata allo sport Elena Gallo hanno preso il via i lavori di adeguamento di questo spazio che vedranno la realizzazione e la consegna già dal prossimo autunno di un nuovo impianto sportivo si tratta di una struttura sportiva al coperto all'interno della quale diversi sono gli sport che potranno essere praticati dal basket alla pallavolo al calcio riteniamo di aver interpretato al meglio la volontà della comunità perché riteniamo che aver investito importanti risorse parliamo di circa 400.000 euro per lo sport rappresenti di certo la gioia e la soddisfazione di tutti i cittadini i lavori hanno interessato anche gli spogliatoi perché sono stati fatti appunto degli adeguamenti per consentire anche ai diversamenti abili di utilizzare questa struttura a 360 gradi i soldi sono soldi di un mutuo a tasso agevolato ottenuti grazie alla partecipazione al progetto 500 cantieri per lo sport lo sport a sala Consilina è assolutamente vivo il fervore è tanto e come istituzione non possiamo esimerci dal concentrare tutti gli sforzi per garantire sempre più spazi affinché soprattutto i giovani ma in generale le associazioni e gli sportivi abbiano le proprie strutture per poter praticare divertirsi e inseguire i propri sogni ed ora l'arte e la cultura ha preso il via questa mattina la giornata di teatro e musica a Polla con gli studenti dell'istituto di Amicis che hanno potuto assistere al musical Mamma Mia Domani Mi Sposo questa sera si replica al centro sociale Don Bosco questa mattina gli studenti dell'istituto di Amicis di Polla hanno potuto assistere al musical Mamma Mia Domani Mi Sposo presso il centro sociale Don Bosco un appuntamento voluto dall'associazione Tempo in Memoria con la collaborazione dell'associazione Montepruno Giovani per avvicinare i ragazzi all'arte del teatro coinvolgendoli con una trama attuale contornata dalla musica degli Abba lo spettacolo campione di incassi e di repliche è stato portato in scena dalla compagnia professionista artisti associati e non è altro che un primo passo verso un progetto teatrale ambizioso e duraturo come sottolineato dagli organizzatori dell'evento L'obiettivo di oggi soprattutto è organizzare qualcosa per i giovanissimi delle scuole cercando soprattutto di avvicinarli al teatro la nostra collaborazione con l'associazione Tempo in Memoria oramai è una collaborazione consolidata che ci consente comunque di proporci sul territorio con appuntamenti culturali di un certo livello è quello di stamattina che poi si riproporrà comunque stasera per un pubblico più adulto rappresenta proprio questo rappresenta un musical di elevata qualità che cerca soprattutto di far trascorrere ai ragazzi un paio d'ore all'insegna della cultura dello spettacolo e soprattutto volendoli avvicinare a quella che è l'arte teatrale perché poi l'obiettivo principale è questo creare anche delle occasioni che possano servire ai più giovani per portarli anche in un mondo magari non tanto conosciuto da loro siamo soddisfatti come sempre perché sono delle iniziative di promozione sia della nostra associazione e della banca ma soprattutto sono delle iniziative che sono a supporto del territorio che poi è il nostro ruolo Allora il messaggio che noi vogliamo dare è che innanzitutto il teatro e cultura deve essere un hobby anche diciamo culturale per cercare di avvicinare queste giovani leve a questa nobile arte noi abbiamo avuto l'occasione come associazione teatrale di avere in esclusiva in questo territorio questa compagnia teatrale che sta girando un pochettino tutta l'Italia nei vari teatri a loro hanno questo spettacolo proprio adatto per le scuole in lingua inglese proprio per incrementare ancora di più l'utilizzo di questa lingua che poi è quella fondamentale per il resto della vita abbiamo per l'occasione come sempre avuto la vicinanza della banca Montepruno con l'associazione Montepruno Giovani che io ringrazio a nome di tutta l'associazione che ha organizzato questo evento e soprattutto di voi televisioni che ci date una mano per divulgare quello che noi facciamo e la passione per la musica porta un artista cilentano ad essere protagonista anche negli Stati Uniti in uscita con la statunitense Nilo Music l'ultimo mini EP di DJ Loppino alias Fiore Pezzuti di Marina di Camerota dal titolo Wonderland da Camerota da Camerota sbarca negli Stati Uniti grazie alla sua passione per la musica che lo accompagna fin dai primi anni 90 e che già da diverso tempo gli sta regalando fama e successo anche fuori dall'Italia Loppino nome d'arte di Fiore Pezzuti 45 anni è un DJ producer originario di Marina di Camerota che in questi giorni torna sulle scene musicali con un nuovo mini EP dal titolo Wonderland in uscita per la statunitense Nilo Music la sua esperienza come DJ inizia sui vinili negli anni 90 alla fine dei quali dà il via alla sua attività come producer reinventandosi nel corso del tempo e attraversando diversi generi passando dalla nugezza al funk fino alla disco a maggio Loppino ha già annunciato l'uscita di un nuovo singolo una sorpresa ora però c'è il tempo di ascoltare Wonderland oggi esce il mio ultimo mini mini EP sono solo due canzoni si intitola Wonderland prodotto dalla Nilo Music una bella etichetta affermata americana sto avendo già bei riscontri da parte del mondo del settore dei complimenti bello vediamo ancora presto per fare delle valutazioni comunque questo 2019 è iniziato molto bene perché ho firmato un contratto con la Masterworks Music di Manchester capeggiata da 80 Child in pratica un DJ molto affermato a livello europeo e mondiale direi e mi sta seguendo da tempo e finalmente è nata questa collaborazione e sono contentissimo e infatti in futuro ci sono altre cose altre sorprese belle che stiamo lavorando vedremo vedremo vi terrò aggiornato e poi appunto questo EP di quattro canzoni intitolato You Can Lose che appunto la canzone You Can Lose è schizzata subito al decimo posto nella top 10 di Dark Souls nel genere in un disco c'è rimasta per due mesi e ancora ancora sta nella top 100 poi a maggio c'è quest'altra sorpresa che la svelo farò parte della compilation di Fingerman Hot Digits con un brano inedito una sola canzone però già fa parte di una compilation così importante di Fingerman è una bella soddisfazione e con questo servizio termina qui questa edizione del nostro telegiornale io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento di giornata di Fingerman 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 di Fingerman